Il laboratorio di telepongo di animazione vuol dire che in queste poche due ore e mezza, tre che abbiamo a disposizione, realizzeremo insieme un piccolissimo cartone animato. Voi sapete che per fare un cartone animato generalmente occorrono degli anni. Noi ci mettiamo due ore e mezza, quindi vuol dire che siamo bravissimi. Noi ci mettiamo due ore e mezza.